Come faccio a fare gli user c'è Devo farli vedere tipo ancio questo che vedete argentato così Argentato qua è un po aperto sembrano dei peni le cose che ha qua in mezzo e niente gira senti che rumore come fa il berico sentito il rumore Questo è buono questo è buono vedete questo Questo ragazzi invece tipo non fa rumore non fa alcun suono Completamente silenzioso e la cosa bella che si accendono anche le luci estipo ecco Se tipo un po' di pugni si accendono un po' di luce vedete no non sto scherzando Ritano i pugni e poi giri così tipo c'ha le lucine tutte ste cinesate di merda qua Queste rive sono delle pussi non giocate riuscire Ma che cazzo Ok no braum Rip Allora amori faccio un lane gun che ho guardato a che tu sappia No no non ne ho guardato Mi mancherebbe su, ecco qua guarda Atac Ecco, ora vado, totti in gelare XD E' tua amori Meglio così, non rischiamo Unlucky E' morto dallo sport What? Maito non lo so Da qualcosa è morto Ok mi si arriva, what the fuck? Ah è qua Di puttana Oh sono qua al mio blu ma vai O è da te o è da cazzo No è qua, è qua Ha messo la ward adesso È qua Sono qua Che cazzo vuol fa questa? Dai da Oh hell no A troia Troppo brava Troppo Ho visto che bella combo che ha fatta E' stata bellissima Occhio Questa idiota Ma come l'ha missato, what the fuck? Quella commissata è così Quella commissata, vabbè Te la concedo dai Si dai Quasi peggio delle mie Ma non fa danni no Ma non fa danni no No, va full tank Mamma mia Ignite Lo prego Questo è un game che mi piace C'è bisogno di tipo Ecco figli di puttana Guarda la torre Mauri Osservala Bam Ah L'ho percepito quella engage da parte Guardalo, guardalo Guardalo Un'altra Però effettivamente per morire Contro Gallio Contro Rihanna L'ha ingaggiato Quella è già un livello sopra Perché è andato a fare una kill Mannaggia Anzi aspetta che prendo Ah ok Non è il mio ultrash Per i mini non è il flash Per i mini non è il flash Sì sì Vabbè Ah Riff Ruffo Però chiudiccio Qualcosa combiniamo Ulti Mamma mia ragazzi Sto sciacco Corian Corian proprio I know I know I know I know I know O a me no scusami Anch'io c'ero in quel momento lì No no sono io quello importante E perché io no scusami Non ho fatto una bella azione C'è che ulti li ho tirato sto Gallio qua Che ad oggi li ho fatto E lo smite l'ignite a Jin Non l'ha visto nessuno Non l'ha visto nè Perché nessuno mi acclama Nessuno mi vuole bene E Chi è quello Un immigrato Un immigrato Mauri Prendetelo Torna a casa tua A casa Vedi gli è arrivata anche l'onda Per simulare E il fragico Col gommone Non si è ancora fatto le tabi Che cazzo si sta Oriana lì Mastery ha usato smite rosso sul minion Non è niente ha flashato È qui ragazzi Prendetelo Presto sta scappando Non ci vai all'ambasciata Che cazzo Corri Varus A casa Ok Yasuo Ecco Mi sto raggiungendo Un attimo Devo mandare a casa della gente Ragazzi Qualcuno fa il sub Ecco Non ci arrivo Vai è slowato Mauri Non ci arrivo È slowato Grazie Dancilotto per il sub Grazie mille bro Com'è andato all'esame Ma mi hanno esaminato Ho detto che sono a posto Il mio sangue è pulito Non mi drogo Eri positivo all'HW No 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 assolutamente Né HW Né EDS È stessa cosa Ricca Nell'SSD Nell'HDD Nell'HDD E la RAM? La RAM è La RAM ha detto DDR4 sarebbe preferibile Però vabbè Ci si accontenta Il DDR2 Sì sì C'è master in top E non sbaglio Secondo me sarà qua Guardalo Master Master Dov'è Red Allora sarà Anche io sapevo come è luce Hai visto? Ecco Ruspa Tiarla fuori dal garage La preparo? Accenda Accenda pure la Ruspa Eh c'è un po' di mira Tico in mezzo però Lick Come facciamo? Ruspa che loro Via Via i campi ROM Con i ROM dentro Uscite Oppure Via le tende con voi Puliamo sti immigrati Master Yi è arrivato Un leggero RRRRRR Regà troppo forte Troppo 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 forte Mi sembra che Grega sia partito da bot lane Non so perché C'è la prima partire dai Dai raptor Sinceramente Però Come vuole lui Mauri sono full Corian Vai vai Vedi 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 il Corian che c'è in me Non ti fermano più adesso Madonna santa Guarda quanto sono coreano Mauri guardami Guarda quanto sono coreano Guardami Mamma via Ci ha provato Mauri 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 Arrivo Vieni di qua Ma tanto è morto Vabbè Servo? No non serve Boh Lo distrugge? Sì sì Cosa fai? Hello Madafaka Madonna mia Mamma mia A Aperto 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 Mauri Vado No ho ultato ma lì Eh vabbè no sto bug qua no però Arrivo Arrivo Adoro su Caitlyn eh No hai sei accorto Aspetta Beh gli attiro Aaaaaaah Nice Ma lascia il GP Tutto calcolato Effettivamente ce l'infilo io Ma che cazzo? Vai Mauri Vai Mauri A posto Guarda sul drago intanto Aaaaaaah Timo no Eh è questa? Che fai? Che fai? Fiateli gnai Vabbè Bel danno Vero No Mauri Pazzo Ah non mi chiede non mi chiede Non ti fanno danni eh Però Assolutamente full magic esiste Sì 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 figli di puttana Guarda quanto gli tolgo a Gragas No way No way Qui va Mauri stila la kill però No